La piaggio in finale ha sempre rappresentato un punto di riferimento per un'attività lavorativa di un qualsiasi ragazzo, però forse con lo spirito anche che abbiamo da giovani di voler andare oltre i muri di casa propria, di uscire, quando ho terminato gli studi non mi sono posto il problema di entrare in piaggio nonostante fossi perito meccanico, ma poi parlando mi avevano prospettato l'opportunità di entrare in Olivetti e a questo punto ho detto ma sì potrebbe essere una buona esperienza anche se abbandonavo il sole e il mare per vedere qualche cosa di diverso, perché bene o male Piaggio la si conosceva dai racconti degli amici o dei genitori di amici che ne parlavano, mentre invece da qualcosa di nuovo mi attirava, come poi in un secondo periodo ho provato anche a fare, ho fatto una domanda per lo Zambia Irline e poi anche per la sacca di Brindisi, poi però non hanno avuto evoluzione, per cui nel 1970 sono entrato in piaggio e di lì ha cominciato la mia carriera che ho mantenuto per 38 anni. Mentre avevo in piedi la domanda per entrare in Olivetti, essendo orfano di guerra a dicembre nell'ufficio dell'ingegneria industriale si licenziava un dipendente che era orfano di guerra. Io essendo appartenente alla categoria orfani di guerra mi sono trovato che mi è arrivata una comunicazione dal Ministero dove io dal 1 gennaio sarei entrato, assunto in piaggio. Per cui trovandomi nella cosa di dover dire vado in piaggio, vado a Olivetti, ho detto ma intanto vado in piaggio e poi staremo a vedere come va la cosa. e in piaggio poi sono rimasto. Sono stato assunto come ha detto all'ufficio analisi del lavoro il 19 gennaio che è stato il mio primo giorno di lavoro, mi sono presentato alla portineria, sono stato accompagnato dal dirigente di allora, l'ingegnere Augusto Ruocco che mi ha ricevuto, mi ha fatto una piccola presentazione di quello che poteva essere, prima ho chiesto da dove arrivavo e cosa facevo, poi dicendomi che la piaggio era una buona scuola di imparare, le cose che ricorderò sempre le sue parole sono state, guarda, impara e poi vai via, perché ha detto la piaggio è una buonissima scuola però poi bisogna fare un passo più lungo, cosa che io invece non ho fatto e mi sono mantenuto sempre in piaggio. Poi di lì il mio lavoro consisteva, sono entrato in un ufficio dove con altre 8 persone, con 4 per la parte motoristica e 4 per la parte velivolistica, seguivamo le lavorazioni delle parti meccaniche e di lamiera per la costruzione di motori o di aerei. Io mi interessavo della parte motoristica, quindi mi sono interessato e poi in principal modo delle parti meccaniche, perché poi avevamo le parti meccaniche e parti di aggiustaggio, io mi interessavo delle parti meccaniche e mettevamo delle bolle di lavorazione per dare il tempo, perché da piaggio si lavorava a Cottimo, i tempi di lavoro per costruire queste parti giù in officina. Inizialmente mi appoggiavo a un collega che mi hanno dato come riferimento, un collega anziano e per subito ho dovuto appoggiarmi completamente a loro, perché era tutto un lavoro fatto dall'esperienza. Poi in un secondo tempo, già nel corso del primo anno e negli anni a venire, abbiamo cominciato a fare dei corsi dove c'era proprio uno studio di come calcolare i tempi di lavoro per costruire un tempo per la lavorazione di un pezzo. Dalla lavorazione meccanica ai tempi della gestualità e tutto che serviva per fare il pezzo. Nel mio campo poi seguivo anche, e lì è stato molto interessante, seguivo le rilavorazioni delle parti che erano in produzione. Rilavorazioni in che senso? Se per caso un pezzo durante la lavorazione veniva danneggiato, che cosa? Seguivo in accordi con gli uffici tecnici come se lo si poteva riparare senza doverlo scartare, perché erano parti che generalmente erano ricavate da degli estrusi o da degli stampati, quindi con materiale di alto costo. Per cui era sempre meglio evitare di arrivare a doverlo buttare via il pezzo, anche se purtroppo in aeronautica lì si guardano i centesimi e quindi per pochi centesimi si butta anche via un pezzo che ha enorme valore e c'è come acquisto anche a livello di materiale grezzo. Lì è stato interessante perché nella rilavorazione si va a contatto con ancora più enti di quelli che potrebbero essere solo, per esempio il danno era fatto nel reparto macchine, però poi il pezzo per essere riparato doveva avere una certa rilavorazione, fare una rilavorazione con un riporto di cromatura o altro, per cui bisognava seguire un certo ciclo di lavorazione, fare certe preparazioni, poi portare il pezzo nel reparto galvanica, fare un deposito di cromo, poi rilavorarlo per portarlo a misura, questo è un esempio di una rilavorazione di un pezzo. Diciamo, io lì ho fatto il servizio di analisi del lavoro e analisi di tempi, sono stato fino al 77 fisso, poi ho avuto un anno di intermezzo che sono sceso in officina, come caporeparto, reparto rettifiche e palette, il reparto rettifiche e palette non era altro che un reparto dove c'erano diverse macchine di rettifiche orbitali o una rettifica senza centri, per lavorare apertamente i dischi, i dischi turbina e le palette una volta assemblate sul disco per i motori e poi la costruzione proprio delle palette come rettifica, ossia la paletta veniva sgrossata dal reparto frese, poi passava al reparto rettifiche dove la paletta prendeva la sua forma finale nelle tolleranze previste a disegno. E qui si lavorava, ecco, la costruzione delle palette, tra l'altro era una delle grosse lavorazioni di serie, perché in un disco si passava dalle 30 palette minimo alle 60-70 palette per disco, per cui si capisce che per ogni motore ce n'erano diversi dischi, sia di palette estatoriche o palette erotoriche, che erano da fare, se c'erano da fare 5 motori al mese, logico, 3x5-15, si facevano lotti di 150-160 palette di un tipo, 200 dell'altra e 300 delle altre, secondo la produzione che era richiesta. E queste palette servivano sia per i motori T53 e T55 o per i motori Viper. I motori Viper erano, quando sono entrato io, il Viper 11 e poi il Viper 632, che è stata un'evoluzione del primo motore, che era un motore poi abbastanza già sfruttato. Sono stato un anno, ho fatto un anno di esperienza molto interessante in officina, appunto nelle lettifiche e nelle palette, poi sono ritornato su nell'ufficio dove ero, all'ufficio analisi del lavoro e dove poi sono rimasto ancora per qualche anno, fino al 1994 quando c'è stato, per diversi problemi che si sono venuti a creare, esterni dalla piaggia, ossia un po' di crisi eccetera, con cassa integrazione ed altro, è successo che con i vari avvicendarsi delle persone, a un certo punto sono stato spostato alla contabilità industriale, dove, dunque, il servizio tempi, analisi tempi, oltre che fare le bolle di lavoro per gli operai e tutto, però un altro lavoro molto importante che si faceva lì era di realizzare i preventivi per la costruzione non solo del piccolo pezzo, ma della parte del motore, generalmente, per esempio, parlando di questi motori che abbiamo accennato prima, T53, T55 o la linea Viper, in piaggio facevamo circa il 50% e di questi facevamo il preventivo che poi, elaborato dall'allora contabilità industriale, venivano trasformati in lira e poi si vedeva se c'era il guadagno o meno per produrli. Noi preventivi ne abbiamo fatti tantissimi, poi certi prodotti li abbiamo acquisiti, altri prodotti no, però i preventivi venivano elaborati dall'ufficio metodi come stesura del metodo di lavoro e poi da noi, analisi del lavoro, ufficio tempi, li valorizzavamo con il tempo di lavoro e poi dopo li passavamo alla contabilità dove venivano trasformate in lire per determinare il prodotto di vendita, eccetera. Invece poi, appunto, sono passato alla contabilità industriale, forse anche per l'esperienza che avevo delle lavorazioni in officina, della costruzione delle parti, ho fatto un po' da tramite dalla parte tecnica e la parte commerciale, di conseguenza io mi interessavo, appunto, delle parti che arrivavano con la valorizzazione di un tempo di lavoro, trasformarlo poi in lire aggiungendo tutti i vari costi accessori che non sono solo quelli della lavorazione o quelli che venivano in officina. Un'altra cosa che dimenticavo, quando sono entrate in piaggio le bolle sulla bolla di lavoro, non veniva espresso il tempo di lavoro, ma veniva espresso le lire che si davano per il lavoro. Le lire in che senso? Che noi avevamo delle tariffe che variavano dalle 200 alle 300 lire l'ora, anche meno, e sulle bolle venivano indicate non 30 ore di lavoro, ma 2.700 lire, 3.000 lire, 10.000 lire per diversi anni. Poi dopo pochi anni siamo passati a trasformare, che era anacronistico, indicare su una bolla delle lire, abbiamo incominciato invece a indicare sulle bolle un tempo di lavoro, quindi si andava dalla bolla, che poteva essere di pochi minuti, a delle bolle che erano di diverse ore o di diverse giornate di lavoro, a seconda delle varie attività. Poi sempre anche dalla bolla, dal tipo cartaceo che venivano emesse da un ufficio a fianco al nostro, dove c'erano delle ragazze che scrivevano sulle bolle a macchina il tipo di lavorazioni che erano richieste, e poi noi a mano mettevamo il tempo, prima le lire e poi il tempo di lavoro. Nel frattempo, questo è subito agli inizi degli anni 70, verso invece nella seconda metà degli anni 70, dal 75 in avanti, abbiamo incominciato a introdurre un sistema meccanografico, dove le bolle e i cicli di lavoro non venivano più scritti tramite macchina da scrivere da delle ragazze, ma venivano emesse da un centro stampa che elaborava i cicli che venivano registrati, e poi il centro stampa elaborava un ciclo di lavoro con varie singole bolle di lavoro che venivano poi date giù in officina per essere gestite. Quindi anche la trasformazione tecnica che c'è stata in questo periodo di tempo è stata quella di passare dalla bolla scritta macchina, alla bolla invece è il ciclo di lavoro che usciva dal centro meccanografico. E lì abbiamo anche avuto una buona risposta dei nostri tecnici dell'ufficio elaborazioni dati che ci ha permesso di tirare fuori un bel sistema che tra l'altro penso che ad allora anche in Fiat forse ce l'invidia, non erano avanti come noi, quando l'abbiamo cominciato. In Piaggio producevamo il 20% per il privato e l'80% per il militare. Quando sono entrato in Piaggio si lavorava prettamente tutto ancora con macchine di tipo tradizionali, le frese, i torni, i trapani e per esempio negli uffici niente era meccanizzato all'infuori che la grande calcolatrice, che era la cosa più evoluta. Poi invece pian pianino abbiamo assistito all'evoluzione sia negli uffici che nell'officina dalle macchine pian piano a controllo numerico, negli uffici ai videoterminali e poi ai computer, per cui ho vissuto proprio questa grande trasformazione tecnologica per le lavorazioni, ma anche dalla parte sia meccanica e per la costruzione del pezzo, sia anche dalla parte di progettazione e elaborazione dei dati, dalla parte tecnica. Quindi è stato molto interessante questa cosa qua. Il lavoro veniva fatto subito, i tempi che si determinavano per la costruzione dei vari pezzi venivano segnati su delle bolle di lavoro dove ce n'erano diverse copie, una copia veniva data all'operaio quando cominciava a fare un pezzo e su questa bolla lui registrava le ore o le giornate che ci impiegava per farlo e su questa bolla in funzione anche del tempo assegnato e del tempo da lui impiegato veniva determinato un certo cotimo, un certo lavoro. Quando sono entrato io il cotimo aveva ancora una certa rilevanza, poi pian pianino però la parte cotimo si è andata sempre più a ridurre, per cui l'operaio e il tempo di lavoro non è che fosse necessario per guadagnare più lui in busta paga, ma era più che altro un'indicazione per costruire i tempi di lavoro, per determinare i carichi e per preventivazioni in futuro. Il cotimo in piaggio da allora quando sono entrato io diciamo che per un operaio influiva sul 40% sullo stipendio, quindi è una parte ancora abbastanza rilevante, però nel giro di pochi anni si è sempre andato a scemmare fino a ridursi a qualche decina di mila lire nel tempo. Mentre subito aveva una certa rilevanza, poi però cambiando le cose, il tempo che veniva determinato, in certi casi in altre aziende dappertutto è sempre stato rilevato con l'utilizzo del cronometro. In piaggio l'utilizzo del cronometro ogni tanto lo si faceva, ogni tanto erano delle cose sporadiche, diciamo che non è mai avvenuto proprio in una maniera pesante, veniva più una cosa concordata, determinata così, tecnicamente, poi cercata di far digerire politicamente con l'operario. La piaggio è sempre stata una grande famiglia, forse anche per una realtà industriale ma di paese, non di una civile già industriale come potrebbe essere Genova, Torino, Milano. Noi siamo vissuti sempre un po' industria però di paese, dove un po' tutti ci si conosceva e dove di conseguenza anche andare in urto uno con l'altro non ci si poteva quasi andare per il rapporto umano che c'era, ma poi anche per non si viveva la cosa politica che poteva esserci nella grande industria, dove invece già i tempi di lavoro venivano controllati col cronometro, tante cose venivano controllate abbastanza radicalmente, da noi invece era un controllo ma abbastanza soft, per cui la grande famiglia andava benissimo, c'era abbastanza accordo tra le maestranze e anche la classe dirigente. Io quando sono entrato, donne in piaggio ne ho trovate qualcuna, mentre invece negli anni precedenti, anni della guerra invece col fatto proprio della guerra sentivo raccontare dai vecchi che le donne in piaggio erano parecchie e lavoravano in tutti i campi, ad allora per esempio si facevano ancora gli aerei in legno e in tela, quindi c'erano anche molte attività che si prestavano per certe lavorazioni, però poi lavoravano anche in tutti i campi, poi invece con la fine della guerra, c'è stata una normalità che per la donna non è stata così richiesta e quando sono entrato io appunto ce n'erano ma un numero molto esiguo, nell'ufficio a fianco al nostro per esempio ce n'erano diverse, era quasi un ufficio di tutte donne, due uomini, era l'ufficio dove preparavano appunto questi cicli di lavoro, battendoli a macchina uno per uno e le bolle con la carta, in qualche caso per lavorazioni ripetitive si usava anche il ciclostile, però lì praticamente le donne, poi in altri uffici invece dove c'erano all'ufficio personale ce n'erano, in officina non ce n'erano, c'erano in uffici, in qualche ufficio dove facevano mansioni di più che altro di segretariato, poi invece con gli anni a venire c'è stata anche l'evoluzione e quando gli ultimi anni in cui sono stato ancora io in piaggio, diverse donne sono entrate in officina a lavorare ai torni, alle macchine a controllo numerico, abbiamo avuto dei momenti anche abbastanza difficili perché siamo arrivati al punto che non avevamo, per far girare la carta dei comunicati negli ambiti anche degli uffici abbiamo dovuto prendere fogli vecchi, girarli e mandare i comunicati tramite, utilizzo roba che era ormai obsoleta e negli uffici ci siamo trovati anche con avere le forze ridotte come personale e poi anche difficoltà anche per le lavorazioni perché anche in officina certi utensili che sarebbero serviti non si trovavano, c'è stato un momento abbastanza pesante e si è sentito. Noi ci siamo trovati addirittura dei periodi che lavoravamo tre giorni e tre giorni eravamo quasi sempre in strada oppure nel piazzale che c'era parecchia, non si sapeva se il giorno dopo ci avrebbero tenuti, ogni tanto ci dicevano domani è la data ultima, ma si vedrà se ci sarà un futuro, fortunatamente quando ci dicevano domani è la data ultima ce l'hanno detto diverse volte ma la data ultima non c'è mai stata, fino ad oggi, io spero che non avvenga neanche oggi per la piazza, nonostante anche adesso sia un momento un po' particolare. Avevamo il timore che certi tipi di lavorazioni ce le portassero via, in quel periodo in officina nell'area velivoli facevamo un troccone dell'aereo Falcon 2000 e ci avevamo detto che volevano spostarla a Genova, lì il finale si è opposta in tutte le maniere perché avevamo paura che una volta uscito dei cancelli, messo su un camion sarebbe magari finito a Napoli, sono cose che le abbiamo vissute tutte però fortunatamente oggi le possiamo solo raccontare e abbiamo continuato a esserci. Io ho seguito la cosa in quanto finalese ma in quanto anche ex dipendente Piaggio perché mi dispiaceva, intanto mi è dispiaciuto da Matti il fatto che la Piaggio sia sostanta in realtà di Albenga dove senz'altro ha favorito quell'area però anche mi dispiaceva da Matti per esempio quanto sentivo dire da diversi finalesi che una fabbrica in riva al mare è anacronistica e tutto, però se devo dire anche una cosa in tanti anni che io ho lavorato da Piaggio uscendo da lavorare ma poi anche gli altri giorni quando passavo lì davanti per non in orari di lavoro o in orari di uscita, non si è mai visto, innanzitutto la Piaggio era una ditta che non inquinava, non produceva rumore e tra l'altro per esempio all'entrata e all'uscita dei cancelli mentre in certe aree si creano ingorghi eccetera, al finale sempre ha avuto un traffico abbastanza diluito che si spostava, che non ha mai da creare del disagio, diciamo la Piaggio nel tempo non ha mai dato fastidio ai finalesi, anzi i finalesi io penso che quando la Piaggio si è spostata l'abbiano sentita perché bene o male anche per il poco indotto erano anche solo quei dipendenti che a mezzogiorno dopo la pausa pranzo, quelli di fuori, che andavano solo a prendersi il caffè era già un indotto che portavano a finale, ma intanto finale era conosciuta, invece oggi purtroppo mentre nel 1909 il sindaco di allora con altri nobili di finale hanno avuto la lungimiranza di dire portiamo un qualche cosa qua, a un certo punto noi ce l'abbiamo vista, nel 2009 l'abbiamo vista andare via e quella è stata, almeno da finalese me ne dispiace e che tanti neanche ne abbiano capito l'importanza perché per quello che si può fare con un pochino di trasformazione di come era lo stabilimento lì di finale, si poteva senz'altro fare in loco e tra l'altro lì è anche una parte che si presta perché non è che sia una delle zone più belle di finale, ossia dalla parte sole o altro quindi mentre per esempio parlando di una realtà lì vicino a noi, Santa Corona ha un fronte mare meraviglioso, però è un ospedale che in tanti ci invidiano, ma ce lo invidiano oltre che l'ospedale ce lo invidiano anche per le aree, finale lì dove c'è la piaggio è una zona un po' a ridosso della caprazoppa e tutto, quindi avrebbe potuto benissimo svilupparsi sul posto e migliorando quello che c'era. Sono iscritto alla società, a un gruppo salvaguardia del finalese che cercava di seguire questa cosa, che però poi adesso l'ultima riunione che c'è stata non ho partecipato, però mi hanno detto che lo stanno sciogliendo questo gruppo perché un po' tutti i vari progetti che ho seguito dal nascere, da cose faraoniche ad altre cose, adesso essendo crollato il mercato dell'edilizio non ha sviluppo, io penso che se ci sarà qualche cosa senz'altro sarà il fronte mare, dalla ferrovia a arrivare al mare, mentre a ridosso della ferrovia penso che sarà un'area un po' abbandonata a se stessa almeno, speriamo che non sia così, anzi che abbia uno sviluppo anche quell'area lì, anche se era stata pensata come polo scolastico, però per concentrare lì un polo scolastico innanzitutto c'era da dire e chi paga? Secondariamente è anche che come area non è che si prestasse, poteva anche andare, però c'era la cosa di costruire su più piani e che a quanto poi ho imparato seguendolo un pochino, gli edifici scolastici non si possono sviluppare in altezza perché poi diventerebbero anche pericolosi e lì non ci sarebbe lo spazio per raccogliere tutto il comprensorio finalese. Addirittura si parlava di fare nella zona a monte della ferrovia, fare degli insediamenti artigianali tipo tappezzieri, tipo lavori un po', non il carrozziere che può fare anche rumore, ma lavori artigianali di non grosso impatto acustico ambientale, però anche quello chi fa, perché lì senz'altro fronte mare è appetibile perché trova sempre torinesi, milanesi, chi arriva da fuori che la spende, però nel giro di 200 metri, un'abitazione di 50 metri in riva al mare vale 200 mila euro, l'appartamento da 100 metri quadri a 500 metri dal mare vale 100 mila euro, quindi speriamo che ci facciano qualche cosa, adesso dovrebbero incominciare, però sembra che voglia incominciare perché se no gli scadono i permessi per la società che ha in gestione tutta l'area, ma anzi speriamo, prima parto non meglio è, invece di avere dei ruderi abbandonati a se stessi potremmo avere un qualche cosa che invece serve. Ben o male, ne parlavo stamattina con un collega, nella parte dove c'erano le sale prove motori, proprio al fondo della piaggio, a Monte, lì se buttassero giù e spianassero solo, per l'estate servirebbe anche solo, così senza grossi spese, asportando solo il materiale di risulta potrebbero utilizzarlo come parcheggio, cosa che d'estate i parcheggi in Liguria sono tanta manna e favoriscono anche gli ospiti che arrivano. E tra l'altro lì l'area è stata anche bonificata perché lì, in quell'area lì, vicino alle sale prove motori, c'erano tre grosse cisterne interrate dove allocavano la benzina per le sale prove motori, queste sono state tolte, le è stato riempite di terra e adesso appunto anche per un primo utilizzo potrebbe già essere quello e per dare una continuità, fare un qualche cosa, ma farlo.